Lei pensi che non ho voluto andare a scuola, terminata la classe quinta? Allora io da cinquantotto anni sono in negozio e da sessantasei faccio il partito, avevo undici anni, dopo sono stato fermo un anno, un anno e mezzo, avevo provato a cambiare lavoro e dopo sono ritornato a Giacometto. Invece della bici tentò di accendere il suo motore, dannata, disperava, di farlo girare, con la leva a pedale lui ostinato rifiutava. Alponsina arriverà, comunque vada! Alponsina, Alponsina strada! Alponsina arriverà, comunque vada! Alponsina, Alponsina, Alponsina strada! Dove c'era Alponsina ormai c'è una zona wifi e con gli occhi... Tra le parabole sui balconi affacciate come lune belle, ad una stella che mi guardava, dalla cucina, ho dato un nome alponsina, ad una stella che mi guardava dalla cucina, ho dato un nome alponsina... Alponsina arriverà, comunque vada! Alponsina arriverà, comunque vada! Quanti chilometri diciamo i chilometri sono... Alponsina ha le calabure... Alponsina ha le spalle strette... Alponsina ha le calabure...